Si è conclusa la notte scorsa l'operazione condotta dai carabinieri di Alba al termine di un'indagine portata avanti da alcune settimane. In manette sono finiti due macedoni e due italiani di Alba e di Asti, anche una donna fra gli arrestati. I militari seguivano i movimenti dei giovani da qualche tempo e quando hanno avuto sufficienti elementi di riscontro hanno dato il via all'operazione sorprendendo i giovani in possesso di quasi un etto di marijuana. Nella perquisizione che ne seguite i carabinieri hanno inoltre trovato un bilancino digitale utilizzato per il confezionamento delle dosi e oltre 3.000 euro in contanti e sicuramente provento dell'attività di spaccio. Nei prossimi giorni i cinque compariranno davanti al PM per l'udienza di convalida ed eventuale interrogatorio. Le indagini sono ancora in corso per individuare la rete di consumatori e di fornitori. Erano le 21 e circa di ieri quando i carabinieri del comando stazione di Alba, allertati dalla centrale operativa della compagnia, sono intervenuti in località San Rocco Cherasco, comune di Alba. Sul posto i sanitari del 118 hanno potuto solamente constatare la morte dell'uomo, 74 anni, pensionato e celibe. Dalle prime dichiarazioni rese dai vicini di casa ai militari intervenuti, l'uomo era solito recarsi a coltivare l'orto poco lontano dalla sua abitazione. Per raggiungere il campo doveva guadare il rio Cherasca per poi arrampicarsi sui pochi scalini che i suoi continui passaggi avevano scavato nel fango della sponda. Anche ieri mattina i vicini lo avevano visto che si allontanava in direzione del terreno. Allarmati dal mancato rientro in serata, alcuni di loro hanno organizzato le prime ricerche. E' stato un amico a rinvenirne il corpo privo di vita nel fiume Ciattolo. Dai primi accertamenti dei militari l'anziano sarebbe scivolato nel corso d'acqua e persi i sensi sarebbe negato. Mi pare di poter dire che si avvicini dunque il momento nel quale finalmente l'aeroporto di Cuneo-Levaldigi sarà messo in condizione di poter scommettere anche attraverso il rilascio della concessione e l'entrata dei privati, su una prospettiva di crescita e di sviluppo. Il deputato del PD Mino Taricco si esprime così manifestando la propria soddisfazione intorno agli ultimi sviluppi della vicenda legata alla concessione ventenale dell'aeroporto Cuneo-Ela-Geac, società che gestisce attualmente lo scalo, e all'attesa sentenza del Tar del Piemonte sui ritardi connessi a questa medesima concessione e sul risarcimento dei danni causati da essi. In provincia di Cuneo costi minore rispetto alla media regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Ne ha parlato Fulvio Bersanetti, ricercatore della REF, lunedì 10 febbraio nel Salone d'Onore del Lente Camerale alla presenza dei tecnici delle associazioni di categoria e amministratore degli enti locali, illustrando l'attività di monitoraggio delle tariffe applicate alle piccole e medie imprese per consumo di acqua e smaltimento rifiuti nei comuni piemontesi con più di 5.000 abitanti, realizzato su commissioni di Union Camere Piemonte. Il progetto si è concretizzato nella realizzazione del portale TASP Piemonte, repertorio amministrativo delle tariffe e degli atti ufficiali dei servizi pubblici locali, strumento di trasparenza e informazione realizzato per fornire agli imprenditori che intendano investire in Piemonte indicazioni su tariffe e agevolazioni relative al servizio idrico e di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei comuni piemontesi. Ieri, mercoledì 12 febbraio 2014, il sindaco Bruna Sibile e il consigliere comunale delegato Pietro Ferrero, insieme a funzionari dell'amministrazione civica della città della Zizzola, hanno incontrato nella sede dell'assessorato regionale ai trasporti funzionali della regione Piemonte e delle società ferroviarie RFI e Trenitalia. La riunione per sottoporre alcune ipotesi che possano dare soluzione all'annosa vicenda dell'utilizzo del Movincentro. Nell'ambito dell'appuntamento, gli amministratori braidesi hanno proposto di poter garantire all'amministrazione comunale una concessione 99-ennale dell'immobile, oggi di proprietà delle ferrovie e concesso in uso al Comune solo per alcune iniziative, accompagnata da un impegno a garantire all'interno della struttura uno spazio per ospitare la sala d'attesa dei viaggiatori sulle linee extraurbane dei Pullman e, se di interesse delle ferrovie, biglietteria e sala d'aspetto della stazione ferroviaria. Nei prossimi giorni la proposta sarà formalizzata in una comunicazione ufficiale. Sono lontani i tempi in cui la festa di San Valentino generava in Italia un giro d'affari attorno al miliardo di euro. Oggi la crisi economica colpisce anche gli innamorati, riducendo drasticamente la spesa per regali, gioielli, viaggi e cene fuori. Lo ferma il Kodakons che diffonde i dati ufficiali circa le spese degli italiani per San Valentino. Nel 2014 si registrerà una forte diminuzione non solo nella quantità degli acquisti e dei consumi, ma anche nel numero di cittadini che decideranno di festeggiare San Valentino, al punto che solo una coppia su cinque regalerà qualcosa al proprio partner o trascorrerà la ricorrenza al ristorante. Rispetto al 2008 la spesa si è praticamente dimezzata e non supererà i 500 milioni di euro tra gioielli, fiori, cioccolatini, peluche, cene al ristorante ecc. Per i regali si spenderanno meno di 30 euro a persona. In testa le preferenze degli italiani rimangono i fiori scelti dal 35% dei cittadini, seguiti dai dolci 20%, solo un 4% di fortunati regalerà al proprio partner un gioiello. Grazie a tutti! Grazie a tutti!